Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. E' significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Gesù. Sion. Gesù. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.